Quali sono le fasi programmate? Le fasi programmate sono il posizionamento delle travi portanti del ponte che sono posizionate su una pila provvisoria e questa è l'attività della giornata di oggi. Si tratta di due travi che sono composte di tre pezzi diversi? Le prime due sono state aggiuntate proprio per poter posizionarle sulla pila provvisoria. A lunedì si prevede il posizionamento della terza trave in modo tale che da lunedì vedremo la campata unica dei 54 metri. Le travi che vengono posizionate per prima quanto misurano in tutto? Sono sui 30 metri circa e hanno un peso circa di 70 tonnellate l'una. Avete deciso di fare la soletta di acciaio anziché in cemento armato, questo ormai è ufficiale? Sì, direi che è ufficiale, gli approfondimenti con la Omba ci hanno prospettato questa tecnologia che è abbastanza nuova anche se è la stessa tecnologia che è stata utilizzata alla Spezia per il ponte della Colombiera quindi ci aiuterà a migliorare i tempi, anticipare i tempi perché non verrà realizzata la soletta in cemento armato di collegamento. Da lunedì prossimo una volta che ci saranno le due travi complete che cosa succederà esattamente? Arriveranno la parte restante del ponte dall'officina di Vicenza e continueranno a montare l'imparcato stradale. Si può fare una previsione in termini di tempo? Una previsione in termini di tempo in questo momento per la realizzazione del ponte nel suo disegno complessivo si può pensare ai primi giorni di aprile, questo è un po' il programma. Poi ci saranno tutte le operazioni di completamento che porteranno magari dei tempi più lunghi perché se non vogliono più attenzione alla realizzazione dei marciapiedi, l'apposizionamento dei sottoservizi, l'impermalizzazione, la pavimentazione, tutti gli aspetti di dettaglio ma comunque molto delicati che vanno tenuti sotto osservazione. Grazie.